Per la ventunesima giornata del campionato da due, Riviera Banca Basket Rimini va a far visita alla staffa Mantova, riduce da tre sconfitte di fila e superata l'andata di 7, 79-72. In classifica le due squadre sono divise da quattro punti, con i Lombardi a quota 14 e i Romagnoli a 18. Il primo canestro è di Calzavara, 2-0. I primi quattro punti di RBR sono di Ogbeide. Il primo vantaggio riminese è griffato Capitan Bedetti, 7-9. Ma è Johnson a marcare a fuoco il primo parziale con 10 punti, 13-16 al decimo. Nel secondo quarto Johnson fa ancora meglio, imbucando altri 12 punti. I Anelizze, con 11 punti, e Capitan Cortese cercano di mantenere Mantova in scia. Dopo una schiacciata una mano di Anumba e una tripla dell'americano, Rimini tocca il più 10, 29-39. Con la tripla di Masciadri, il più 13, 29-42. Divario con il quale le due squadre vanno all'intervallo, dopo il primo canestro della partita di Dalmeida, 31-44. Al rientro il solito Johnson, con un gioco da tre punti, porta Riviera Banca sul più 14, 35-49. Dalmeida cattura il rimbalzo e imbuca il più 16, 38-54. Masciadri realizza il libero per il tecnico alla panchina locale, per il più 17, 38-55. La staff reagisce con un appartiale di 13-0, con Miles, anonimo nella prima metà parte di gara, su Giscudi. E si riporta, dopo i liberi di Cortese, a meno 4, 55-59. E Landi, con due liberi, a ridare un po' di respire Romagnoli, 55-61. Il canestro, lo scadere di 24 secondi di Masciadri, fissa il punteggio del trentesimo sul 57-63. L'ultima frazione si apre con un arresto e tiro da tre di Miles, che vale i Virgiliani il meno 3, 60-63. Quattro punti di Ogbeide e la tripla di Meluzzi riportano i biancorossi avanti di 10, 60-70. Ancora Ogbeide per il più 12, 61-73. Miles riavvicina la staffa fino al meno 6, 67-73. La schiacciata di Genuzzi, che sbaglia però il libero aggiuntivo, la riporta a meno 4, 69-73. Ma sul fallo sistematico dei padroni di casa, tassi in aria dalla lunetta e glaciale. Vince Riviera Banca, che bisse il successo dell'andata anche nel punteggio, 79-72, e sale a quota 20 in classifica. Top scorer Johnson con 27 punti. Domenica prossima i ragazzi di Coach Ferrari ospiteranno Chieti.